La Sicilia è da quasi 30 anni indubbiamente più povera, anche se la voce, gli scritti, le denunce, le prese di posizione del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, ucciso la sera del 5 gennaio 1984 davanti all'ingresso del Teatro Stabile di Catania, vengono portate avanti da diverse realtà, come l'evoluzione del mensile da lui fondato e diretto, i siciliani, innato un anno prima, nell'83, che era subito diventato una voce scomoda, conducendo inchieste scottanti su mafia, affari e politica. Per l'uccisione di Giuseppe Fava è stata confermata la condanna all'ergastolo come mandanti del boss Enitto Santa Paola e di Aldo Ercolano, mentre Marcello D'Agata, Francesco Giammusso e Vincenzo Santa Paola, condannati in primo grado come esecutori materiali, sono stati poi assolti definitivamente. E il prossimo 8 gennaio saranno passati 20 anni dalla sera in cui il giornalista Beppe Alfano venne ucciso dalla mafia a Barcellona a Pozzo di Gotto. Apparentemente un cronista di provincia, ma Alfano era riuscito a toccare con le sue inchieste gli interessi economici delle cosche della provincia messinese. Per ricordarlo sono stati organizzati due giorni di incontri, dibattiti, proiezioni e testimonianze per mantenere viva la memoria di un giornalista coraggioso. Coinvolte saranno le scuole, le giovani generazioni per le quali Alfano scriveva, convinto che quello del giornalista è un mestiere da svolgere anche con una funzione pedagogica.